Cari videogiocatori e care videogiocatrici, si continua con questa seconda parte estratta dalla mia prima live. Termina l'81. Succederanno cose simpatiche? Chissà. Godetevi il video e seguitemi su Twitch per le live e su YouTube per i video. Buona visione! Vai a dormire. Come non riesci a dormire? Ah ok, abbiamo già dormito così subito proprio. Vai a lavorare. Almeno c'è il cesso, sì. Però siamo in bella vista Chosen e non possiamo invitare nessuno. O non possiamo far andare in bagno nessuno. Usciamo noi di casa quando... E devo andare in bagno? Ok, esco fuori per lasciarti un po' di privacy. Ok, si torna... Beh, i baffi di Maduro sono spettacolari, eh. Cosa posso offrirti da bere? Carina? Possiamo portare la birra a quello là, magari? La voleva grande o piccola? Non neanche mi ricordo. Posso prendere un'altra? Prendo anche una birra magari un po' più... Ah, possiamo bere? No, non beviamo. La diamo a quello là, va? Siamo un attimo dentro al... Ma cosa mi dice che uno di questi giorni la signorina... Qua com'è messo? Ehi bella, me lo spocchi? Tipo... Che cosa vuol dire me lo spocchi? Siamo acc... Vaffanculo! Siamo accanto alla polizia! Oh dai, perché chiami la polizia? Vieni qui! Ti divertirai? Eh, sei disgusto... Chiamo la polizia, sei disgusto... Ah, sei una stronza amara come tutte le altre! Oh, va bene! Non gliel'abbiamo spocchiato, dai, nel caso... Tra l'altro non c'è... Ma sono tutte in giro? C'è solo questa qua? Per favore, chiedo un po' di rispetto. Stiamo facendo tutta la nostra portata, si pazia... Ok, va bene. Allora, questo tizio qua mi ha chiesto... Finalmente! Eh, 25! Forse non era il caso di dare da bere a un criminale, però... Finalmente, il mio corpo ha bisogno di birra per funzionare. Prendi questo? Ora lasciami in pace, va bene. All'altro l'hanno rilasciato, non è più dentro al... E io me ne vado, allora. Se mi fai passare... Torniamo al lavoro... Vediamo un po' che succede... Perché questa musica... Sinistra? Così all'improvviso? La gente qua... Non ti ho mai visto qui, sei nuova? Sì. Non fare tardi, questo quartiere è pieno di degenerati. Che vuoi dire? Voglio dire che qui ci sono degli stronzi che stuprano, rapiscono, uccidono ragazze giovani come te. Mi hai capito? Adesso vattene. Eh, è una cosa bella da dire a una sconosciuta, Chosen. Sicuramente, no? Di notte incontri una e gli dici... Non stare qui. Perché ti potrebbero stuprare, torturare e uccidere. Nel migliore dei casi, eh. L'avrei ucciso in questo momento per una birra fredda. Eh, vuoi una birra? Tieni, te la offrono. Ehi ragazze, il supermercato è ancora aperto. Voglio una birra. Tieni, tu. La vuoi? Vabbè. Affar tuo. Torniamo al lavoro. Qua è sempre chiuso? Ok, niente. Tra qualche giorno sarà aperto. Qua continuano a protestare. Cosa vuoi, Brett? Lasciami do... Non sono Brett. Non conosco nessun Brett. Cioè, spesso il capibara è sicuramente il simbolo nazionale del Brasile a questo punto. Mi viene da dire. Posso magari mettere un po' il viaggio rapido per andare al lavoro. Almeno ci saremmo risparmiati tutto questo giro, no? Allora, fammi vedere. C'è una pozzangra d'acqua. Ok, magari facciamo prima le cose... Eh, vedi, qua vanno... Prima risolte queste cose. C'è una pozzangra d'acqua dentro del supermercato. Trova lo straccio. Ok, acqua. Eh, ma è un colabrodo, perché ieri aveva piovuto. Quindi, sì, va bene, ho capito. Dov'è lo straccetto? Qua? Sì, è qua, è qua. Il mocio, prendiamo il mocio. Vai, pulisci. Muovi mentre... Così? Ok. Ma stiamo pulendo, veramente? Così? Il mocio è molto bagnato. Asciuga. Dov'è il sì? Ma io non ho aperto il negozio. Ma che... Io non ho aperto. Dai, è di nuovo pieno. Si entra uno con... Senti, amico. Eh, questa volta è andata male. Chosen, questo gioco ha molto più gameplay di Callisto. C'è molto più gameplay qua. Ehi, ho bisogno di parlarti. Ci vediamo al ristorante asiatico, dopo il lavoro. Ah, succedono cose strane. Ristorante asiatico? Chissà cosa vuole quell'uomo, ma non lo so. Lascio qua e saliamo il cliente, perché sennò... Questo ci rompe le balle, poi. No, ce lo teniamo, va il... Tieni e tieni. Fammi solo posare la bevanda. Ok, qua. Poi me la bevo magari dopo. Ok, quale altre cose abbiamo? Ci sono sacchi di spazzatura nel supermercato. Sì. La spazzatura... Tu ami... Ah, ok, no. Signori, torno subito. Datemi un attimo. Speriamo di no. Sì, eccomi, eccomi, eccomi. Clienti normali, quindi, vabbè. Arrivo, arrivo. Eh, la crisi... Tutto che aumenta qua. Dai, metti lì. Tenga, tenga, tenga. Dai, attento. Eh, ciò, sei un po' la routine della vita, questa, alla fine. I giorni che scorrono, lei che va al lavoro. E vai, però, ok. Eh, una ladra, una ladra, ladra, ladra. Ladra, dove vai? Maledetta. Ehi, è passato un po' di tempo da quando volevo farti una domanda. Di che colore sono le tue mutandite? No, è il maniaco. È il maniaco sessuale, ciò pure. Ehi, non c'è bisogno di arrivare a estre... Beh, ma, scusa, tu vai a chiedere a una di che colore hai le mutandine? Mi sembra normale. Ehi, ehi, non c'è bisogno di arrivare a estremi. È solo che ho un feticcio per le donne. Mi fai sentire a disagio. Scusa, ma vai da qualche altra parte. Vai su internet. Calmati, calmati, voglio so... C'è gente matta qua, ok, perfetto. Che ragazzo strano, dovrei dirlo al manager? Ma non lo so. Colpa mia, hai ragione. Aspetta che ti devo... Stavo osservendo lui, poi è scoppiato il casino, tieni. Avete ragione, sì, sì. Andiamo dal capo? Comunque sempre... Non c'è il capo? Non possiamo fare il rap... Ah, è qua. È dietro di meno, davo visto. Distributore precedente ci ha offerto lo stesso prodotto, ma molto più economico. È seriamente la sua migliore offerta? Ah, sta parlando al telefono. Distributore precedente... Sì, no, niente. Lasciamo perdere. Sì, chosen è sempre notte in questo gioco. È per ora ambientato tutto qua, ma ho visto che ci sono poi sezioni diverse. Se presumo che succederà qualcosa che ci farà... Che ci farà... Ehm... Diciamo, sloggiare da qua. Per così dire. Ma non ho messo tutto dentro, veramente? Venga. Venga. Ok. Dovevo fare anche altre cose. Ah, ok. Mancano i cartelli promozionali. Ah, ok. Questo lo facciamo magari dopo. La maggior parte delle persone si comporta bene. Poi c'è qualche matto ogni tanto. Mi sa che è un po' uno spaccato della vita vera. Io non ho mai lavorato in un supermercato, però... Mi immagino che ci siano anche tipi un po' strani, eh. Beh, lavori di notte. Venga, signora, tenghi. Eh, sì, però dammi... Ok. Ah, forse siamo andati meglio della volta scorsa, perché non abbiamo fatto errori. Non ci sono errori qua. Siamo andati bene. L'ultimo cliente, dai. La notte è bella, eh. Eh, la notte porta consigli, così mi dicono. Vai, vai, vai. Vai. Grazie mille, eh, niente. Ma per mettere i prezzi, che mancava ancora quella cosa prima di staccare, mancano i cartelli promozionali. Nuova dei cartelli. Immagino che i cartelli siano... Qui. Credo. Sì, eccoli qua. Offerta. Dove li devo piazzare, questi affari? Ah, qua, ok. Sì, vabbè, ha senso. Ah, ma fuori, giustamente fuori, però, eh. Ormai siamo esperti di... Abbiamo fatto un ottimo lavoro, Obg. Tutti soddisfatti, a quanto pare. Vedi? Niente, nessun errore. Perfetto. Quindi chiudiamo e andiamo via. Ma sta ancora parlando, lui? Ancora no, non sta più parlando. Senta, capo. Ciao Lorena, come va tutto? Ottimo lavoro oggi. Scusa se ero occupato a negoziare con un nuovo distributore. Oggi è venuto un tipo strano. Facciamo rapporto. Un tipo strano. Aspetta, è biondo? Deve essere Matteo. Ignoralo. È il pagliaccio del quartiere. Pagliaccio del quartiere? Esatto, è un tipo problematico. Non ha genitori o parenti. Ignoralo, ma fammi sapere se continua a darti fastidio. Va bene. Non prendere seriamente Matteo. Ok. Quindi Matteo è il matto del quartiere. Parlo con il... L'ho già fatto, ho già parlato. Ah, dobbiamo andare al ristorante. Me l'ho dimenticato. Goya! E qua, motel. No, motel. C'è anche un motel. Ma c'è tanta roba in questo gioco per essere un indie. Non mi aspettavo tutto questo. Ehi, congratulazioni per il lavoro. Avevo inviato il mio curriculum al supermercato, ma non mi hanno chiamato. Mi dispiace per te, ma non per me. Ehi, non hai paura. Lavori fino a tardi e con i rapimenti di ragazze che stanno accadendo. È pericoloso. Cosa sai dei rapimenti? Una delle mie vicine è scomparsa due mesi fa. La famiglia è andata dalla polizia, ma non hanno trovato nulla. È terribile. E' attenzione, è pericoloso. Va bene. Farò attenzione. Comunque, dei rapitori, nessuna traccia. C'è anche l'ombra. Abbiamo incontrato gente strana, ma non... Questo che cosa... Ma questo qua è il matto? È il matto di Matteo? Finalmente non siamo più vergine! Finalmente... Ok. Come se a noi interessasse qualcosa, ovviamente. E voi due qua? Ehi, se una ragazza... Mio fratello vuole tornare con la sua ex ragazza, ma lei non vuole con lui. Cosa dovrebbe fare? Beh, dovrebbe lasciarla andare avanti. Che cavolo... E' quello che gli sto dicendo. Ma è un idiota. Dice che se lei non torna da lui, lui suiciderà. Portalo da uno psicologo. Sì, hai ragione. Penso che farò questo. Quell'idiota mi sta causando parecchi problemi. Ascolta, se un uomo deve andare... Fratello, non posso dimenticare quella donna. La amo! Troppo. Fratello, non posso dimenticare... Sì, ho capito. Basta. Oh, cavoli loro! Io non sono... Facciamo un tizio a terra. Cosa vuoi? Sto cercando di dormire. Cosa vuoi? Ci hai qualcosa dei rapimenti. I rapimenti? Oh, capisco. Ora... Vedi quella discoteca là? Quello è il posto più sicuro del quartiere. Perché il proprietario di quella discoteca è colui che ordina i rapimenti. Ora lascia... Oh, mamma. A sto posto cos'è? Ma un altro negozio? Cosa stai facendo qui, ragazza? Vai a casa. Cosa vuoi sapere a riguardo? Non è interessante. È solo spazzatura. Spazzatura, ancora spazzatura. Sai che è il rapitore? Non è il rapitore, ma i rapitori. Un lavoro così perfetto non potrebbe essere fatto da una sola persona. Non coinvolgerti di più in questa faccenda. Vai a casa. Eh, quando noi andiamo a indagare troppo, a ficcanasare, poi succedono le cose che... Eh, no. Dobbiamo farci gli affari nostri. Ma succede, ragazza? C'è qualcosa che non va? C'è un problema? Dimmelo. Cosa sai dei rapimenti? Certo, grazie a Dio nessuno dei miei parenti ha vissuto questa esperienza. Ma ho conosciuto persone che hanno perso i loro cari a causa di questi dannati rapimenti. Cosa pensi che siano questi rapimenti? La maggior parte sono ragazze giovani di famiglia di classe bassa o media. Alcune finiscono morte. Tutto indica che si tratta di tratta di esseri umani. Vabbè, è solo una teoria. Potremmo avere a che fare con un caso di tratta di esseri umani, ovviamente. Tra l'altro vanno a pescare la gente un po' più disagiata. Quindi magari gente un po' ai margini della società. Guarda com'è tutto bello pixelato, Chosen. Guarda che roba. Ehi, sei la nuova dipendente del supermercato, giusto? Come sta Fatima? Fatima è sparita. Certamente. Fatima, la ragazza che lavorava al tuo posto prima. Ho sentito che è scomparsa, ma non sapevo che... Non sapevo se fosse andata via da Terminalo o fosse stata rapita. Ecco perché sto chiedendo. Non ne so niente io. Scomparsa? Sì, non so molto perché non ero suo... Non ero sua amica. Ha cambiato sesso lui. O altro. Ho solo sentito dire che non è stata più vista. Ma non ho abbastanza fiducia per chiedere alla sua famiglia. Ma sono in due qua? Le cuffie sono diventate molto costose. Cosa diavolo sono coloro che gesticono... Cosa diavolo sono coloro che gesticono questo paese con l'economia? Ma lei vende qualcosa di interessante. Ehi, mio figlio ha perso diversi... Ha perso diversi libri di filosofia. Qualche giorno fa. Se ne trovi qualcuno, portamelo. Ti pago. Ora ti... Interessa qualche prodotto. Vedi menu. Cosa compriamo? Delle pinze? No, una torcia. Ci servirà la torcia? Non ho nessun libro. Ok, va bene. Comunque c'è tanta roba. Tanta, tanta roba. Il posto è piuttosto grande. Non mi aspettavo un indie con così tanta roba, sinceramente. Ma io non ho ancora trovato il... Potremmo anche andare a casa. Io sono curioso di sapere qualcosa di più sull'uomo misterioso che ci vuole incontrare. Andiamo da questa parte. Proviamo a vedere se... Facciamo un bel gi... Ah, non ci fa andare. No! Il muro invisibile c'è anche qua. E io che ci credevo. Niente. Mi è caduto un mito. Ah, il ristorante dov'è? Ah, guarda la torcia. Bello. Effettivamente potrebbe tornarci... Ci infiliamo nel vicolo? C'è ancora una fetta di pizza. Se vuoi favorire... Puoi farlo. Adesso troviamo il morto qua, eh. Attenzione. No. Allora, qua abbiamo il Luna Park. E non va bene. Non è qua. Io voglio trovare il... Il ristorante asiatico. Dove fanno i noodles. Dai, vorrei concludere almeno questa giornata. Poi lo... Lo recuperiamo più avanti. Questo ristorante? E qua c'è il nostro coso. Dove lavoriamo noi. Qua è un altro muro invisibile. Non trovo il ristorante. Io non mollo. Continuo ad oltranza. Voglio trovarlo assolutamente. Dai, dov'è? Dov'è? Dov'è sto benedetto ristorante? Finese. E non voglio andare a casa. Vorrei trovare il ristorante, ma... Mi sa che non è qua. Qua c'è la fermata dell'autobus. Qua c'è il tizio che vende i panini. Cacciorro per gli amici. Il motel. Ah, è qua? Eccolo qua. È vietnamita, cinese, coreano e giapponese. Proprio asiatico, tutto quanto. C'è anche il numero, se vogliamo prenotare. 5093-9397. Ok. Entriamo. Fratello. Te lo sto dicendo. Il sindaco ha rubato più di 50 milioni di... Ok, si hanno rubato. Ehi, ma... Ma se non sei la ragazza del supermercato, sei nuova a Terminal 81, se hai bisogno di sapere qualcosa, dimmelo. Com'è il livello di criminalità? Beh, c'è criminalità in tutto il paese, giusto? Beh, in tutto il mondo, in realtà. Ma devo ammettere che c'è stato un significativo aumento della criminalità qui negli ultimi anni. Perché ha aumentato? Beh, se dovessi dire qualcosa, direi che è dovuto alla disoccupazione, ovviamente. Dagli anni 90, questo quartiere è in depressione economica. Alcune attività hanno avuto successo, come il tuo supermercato. Abbiamo un buon lavoro. Non facciamocelo sfuggire. Abbiamo il posto fisso, noi. O il posto fesso, dipende dai punti di vista. Poi ho preso in considerazione il mio lavoro con il trasporto. Il problema dei rapimenti delle donne. Mi sento molto insicura. Ma dov'è il tizio, quello là? È lui? È il tipo singolo qua, da solo? Ciao, penso che ci siamo già incontrati. Mi chiamo Park, Sung Wong. Sung Wong. Sung Wong. Sono un corrispondente per uno dei più grandi giornali della Repubblica di Corea. È coreano. Il mio nome è Lorena. Mi piacere, Lorena. Sono qui per investigare una presunta rete di traffico di esseri umani tra questo quartiere e il mio paese. Ma io non ne so niente. Però facciamo lì qualche domanda. Non molto davvero. È di questo che volevo parlare. Ti chiedo, se scopri qualcosa, per favore, dimmelo. Ne sarei molto grato. Un'altra cosa. Il kimchi qui è terribile. Quei cinesi sanno solo imitare. Va bene, possiamo andare a casa a questo punto. A salvare. L'uomo misterioso l'abbiamo incontrato. Per cui Se veniamo a mangiare qua Anzi Cosa mi offri, amico? Vai al menu. Il kimchi Non lo prenderemo mai. C'è stato sconsigliato. Prendiamo un po' di sushi? Ma sì, dai. Mi è venuta voglia di sushi. Mangia, mangia, mangia. La signorina ha bisogno di cibo. Ok, ora sappiamo che qua c'è il ristorante asiatico. Possiamo anche telefonare a casa? Ok, non dobbiamo telefonare a nessuno. Perfetto. Banco du Brazil. Possiamo entrare qua, no? C'è una qua. Salve. Ehi. C'è una ragazza del supermercato. Vai al lavoro? Veramente sto tornando a casa, però. Dovevamo fare questa conversazione prima, mi sa. Lorena ha un bel nome. Il mio nome è Maria. A proposito, se lavori al supermercato, conosci Daniel e Enrique? Beh, mi sembra di sì. Abbiamo già sentito nominare questi due. Capisco. Sono due uomini adorabili. Specialmente Daniel. È un ragazzo dolce. Beh, non ti terrò più occupata. Buona fortuna. Grazie. Andiamo a casa. Abbiamo finito anche la nostra seconda giornata. Sì. Para a dormire, vai.